Stagione 2018 all'insegna della novità. Abbiamo deciso infatti quest'anno insieme a tutte le associazioni e grazie all'appoggio di Filippo Sorcinelli di creare un format nuovo, un festival della durata di un mese che si svolgerà all'interno del Borgo di Mondolfo, Sinestesia Festival, il primo festival in Italia sulla sinestesia. Inaugurerà il 6 di luglio con una mostra molto particolare sulle opere e soprattutto sulla vita in retroscena di Mario Giacomelli in chiave sinestetica per poi svilupparsi durante tutto l'arco del mese di luglio fino al 3 di agosto con la notte bianca dei sensi. Allora sì sono 160 eventi diviso su tutto il territorio tra Marotta e Mondolfo, eventi culturali, gastronomici, musicali e chi più ne ha più ne metta. Solo per indicarne alcuni la notte dei bambini del 7 di luglio, poi il festival che è il festival degli artisti di strada al 14 e 15 di luglio e poi il grandissimo concerto di Enrico Ruggeri che anche se si svolgerà ad agosto si chiamerà il mare d'inverno. Il mare d'inverno perché Marotta diventerà ufficialmente la città che ha dato i Natali a questa famosissima canzone. Sì abbiamo creduto molto da due anni a questa parte da quando ci siamo insediati sugli eventi sia quelli culturali che quelli legati al turismo e alla località balneare. Anche quest'anno abbiamo tanti eventi, li abbiamo aumentati rispetto all'anno scorso, sono aumentati anche gli investimenti che farà l'amministrazione comunale per quanto riguarda tutte le iniziative, quindi c'è stato un bel coinvolgimento di tutti gli uffici, l'ufficio cultura, l'ufficio turismo, l'ufficio alle politiche giovanili perché ci saranno anche diversi eventi legati ai bambini sulla tematica dei bambini e poi tante associazioni che ci danno una mano ogni anno per crescere sempre di più. Quindi gli eventi sono cresciuti, le presenze turistiche sono sempre maggiori e quindi questa è una bella soddisfazione, una bella notizia per l'amministrazione comunale e anche questa sarà una grande estate per Mondolfo e Marotta. Vi aspettiamo a Marotta e Mondolfo, due vacanze in una.